buona domenica a tutti un foggia stellare si comincia nello stadio regalando pupazzi curva sud e curva non a tutti i bambini che stavano nello stadio gettando dentro lo stadio dei pupazzi per i bambini è una grande cosa per le due tifoserie un regalo di natale per i bambini società due esemplari vestiti da satanelli per il foggia una cosa bellissima non ho visto nessuna società chiamare a pino campani e palla presentare ai foggiani e il progetto che ha pino campani per tutte le altre cose presentarlo alla tifoseria perché giusto che sia nessuna società ha mai fatto questo per pino campani è giusto che lui un grande tifoso del foggia viene onorato con tutti i suoi doveri la prima volta no che chiamavano e gli altri per me esistono due esemplari onorare enzo albere e pino campani gli altri no sono tutti da buttare in immondizio grande società seria le cose serie si fanno con persone serie poi nell'apertura del foggia calcio cosa bisogna dire più questi ragazzi siamo primi in classifica 11 vittorie 4 pareggi e 2 sconvitte 23 gol fatti 10 11 subiti di cui siamo nella buona media a giorni ci sarà un'altra firma di un altro attaccante bisogna vedere se insomma ci sono ancora delle cose da risolvere stanno cercando di fare già questi importanti che stiamo vedendo in questi giorni come attaccanti di cui ci si avrebbe qualche un altro attaccante di cui ancora non è finita la chiusura completamente per stare sul mercato per acquistare di cui in questi giorni si saprà anzi a in queste ore si saprà se firmerà il contratto un altro attaccante sarebbe il 4 se non mi sbaglio di cui stanno cercando di trovare un attaccante oltre a questi che stanno cercando di che hanno portato anche un attaccante un po di esperienza e la società ce la sta mettendo tutto di cui fare dei paragoni insomma da quando ci hanno preso dall'inizio come come sa tutta la situazione arrivare adesso a parlare adesso di questa società che siamo in primi classifico con il bitondo e hanno creato un gruppo di giocatori hanno creato un gruppo di giocatori acquisti dei giocatori dal settore giovanile fino ad anzi settore giovanile complimenti che sa si sta dimostrando grandi grandi talenti stanno uscendo in quel settore giovanile di cui anche per formazione bambini tra parenti di cui tanti complimenti che vanno anche lì il progetto che hanno messo in alto la squadra che hanno creato gli acquisti che stanno facendo e tutto e tutto 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 questo cosa bisogna dire a questa società grazie ma non una volta grazie una volta due volte mille volte diecimila volte grazie a tutti i tifosi foggiani possiamo solo ringraziare questa società per quello che stanno facendo e per quelli che hanno fatto e quello che stanno che faranno ancora in avanti un progetto bellissimo che hanno portato a un foggio in classifica un settore che hanno creato alla grande i giocatori sarà stanno mettendo tutto tutti stanno giocando veramente testa bassa e la maglia stanno sudando cioè in tutti i reparti stanno veramente dando la loro anima chiudiamo il natale in bellezza con tante cose positive pure che in questi giorni hanno aperto a brescia si affoggia il pre store di cui chi vuole acquistare pure cerchiamo di stare vicino alla società e di aiutarla situazione della delle cancellate dell'apertura di quello giustamente non c'entra niente sulla società il comune ha cominciato a mettere le cose in chiaro a prendersi le sue responsabilità la vecchia società dovrebbe portare a termine i pagamenti di cui hanno trovato già degli accordi finiamo questo campionato e poi ne parliamo di tutto questo una cosa è certo il lavoro bisogna pagarlo alla persona punto cioè non c'è non c'è scappatoio se no si va avanti con le caute ma la società attualmente non c'entra nulla non ha niente questo è un problema dalla vecchia società e del comune di cui sono problemi che devono risolvere loro la società attualmente sta facendo cose grandi per foggia per la città per i foggiani e per tutto stando un po alla situazione fra erano presidenti del como quando gestivano il como e adesso che sono presidenti del foggio le le due parti sono un po diverse delle situazioni qui hanno potuto fare cose che lì non hanno potuto fare di cui la situazione attualmente di questa società che è sana in tutte cose e ha costruito una cosa bellissima foggio con progetti giocatori squadra allenatore portando un foggia che non si sapeva che fino faccia che fino facevamo attualmente siamo in di primi in classifico e la c la teniamo a lento a dietro l'angolo di cui per il prossimo anno io sono sicuro che faremo andiamo in ci faremo un bel campionato e lì si comincia a mettere delle basi per nuovi giocatori nuovi sviluppi che la società attualmente tiene molto basso su tanti aspetti sta cercando di portare giocatori per arrivare in ci poi in ci si si fa un altro tipo di piano un altro tipo di di situazione che affronteremo di cui un bel campionato una partita un 3 a 1 strepitoso una vittoria bellissima questi ragazzi questi ragazzi ragazzi stanno giocando per la maglia per la città a rispetto agli altri mercenari gli altri mercenari mercenari abbiamo un gruppo di giovani con l'allenatore che stanno portando alto il nostro nome foggia foggia in tutti gli aspetti cosa bisogna dire sempre forza foggia per me fino a alla fine fino alla fine fino alla fine dei miei dei miei tempi per me è sempre forza foggia tolgo una chicca per un social che napoletano che lui parla molto delle cose cattive che succedono in italia beh però quando parli di foggia devi specificare foggia città o foggia provincia sono due fattori diversi quando spieghi e insulti quando devi insultare cerchi di specificare le tue categorie il gattino che è successo a foggia come tu parli è provincia provincia vuol dire lucera foggia città è un'altra cosa gli animali non si devono maltrattare perché chi maltratta gli animali è un pezzo di merda però deve specificare le cose quando fai un video comunque chiudiamo con un bel natale che dire sembra forza foggia grande pino campagna e grande società un progetto che sta dando veramente dignità a noi foggiani a testa alta e ricordate abbiamo sempre un capitano ci abbiamo sempre un capitano un capitano non capitano e mo si ma fuma una bella segretta buona domenica a tutti